Ci aspetta una partita in trasferta dopo due vittorie casalinghe che ci può dare l'opportunità di confermare questo trend positivo lontano da casa e misurare veramente quelli che possono essere i nostri limiti, i nostri punti di forza contro una formazione molto molto solida, molto ben allenata, con un assetto diverso perché hai due americani nel ruolo di 4-5 mentre a tutti gli italiani nel perimetro, una squadra che fa della transizione al loro punto di forza e nella versatilità di BJ Raymond il secondo aspetto tecnico-tattico da considerare e quindi per noi sarà un banco di provi importante sia per quanto riguarda l'aspetto della tenuta difensiva e sia per quanto riguarda la capacità di concentrarci in attacco per rispondere prontamente alle varie tipologie di difesa che il coach Gramenzi è solito proporre alle proprie avversarie.